Per il sesto anno avete realizzato un calendario, un calendario dove si vede il rapporto fra animali e bambini, per cui questa deliziosa pargoletta in braccio a lei che è la protagonista della copertina. Esatto, stiamo parlando del calendario della lega del cane della sezione di Palermo, molti conoscono come rifugio del cane abbandonato alla favorita e abbiamo scelto quest'anno un tema, un tema bellissimo perché i protagonisti sono i bimbi e rappresenta questo calendario il legame tra bimbi e animali. Ok, il titolo è Nati per amare, Nati per amare perché è bello crescere insieme con l'animale, così i bambini diventano degli adulti anche più empatici, fa bene al rapporto. Questo calendario sarà presentato domenica prossima? Esattamente, al Caffè Deja Vu vi allo Strasburgo 38, ci sarà una presentazione con aperitivo anche per i piccoli, alle 18.30 aperitivo per bambini con cibi e bevande adatti anche ai più piccoli, alle 20.30 per gli adulti. Si possono acquistare calendari già alla presentazione, la domenica e anche dopo sui vari eventi che poi andranno pubblicati sui nostri social, su Facebook, lega del cane Palermo. Potete vedere dove si possono acquistare questi calendari anche venendo direttamente a rifugio in Viala Diana 3. È un bellissimo regalo di Natale anche. Bisogna sottolineare che i proventi del calendario saranno interamente devoluti al rifugio del cane. Esattamente, grazie ai nostri sponsor noi possiamo offrire tutto l'incasso di questi calendari interamente al rifugio del cane. Quindi, acquistate questi calendari, io invito di aiutare in questo modo, in questo modo concreto a questi cani abbandonati. Invito anche a tutti di riflettere anche sul fatto che quando uno prende un animale, adottare un cane e non comprare. Andare nei rifugi, anche lì si può scegliere, ci sono tantissimi, uno è più bello dell'altro. Questi cani sono pure seguiti dai veterinari, quindi non c'è nessun rischio che si può correre adottando da una struttura del genere. A rifugio del cane abbandonato della favorita ci sono recentemente 180 cani che aspettano una casa. Grazie a tutti.